Sono bellissime, ben educate... Studiano privatamente, anche in turne. Mia sorella ha chiesto la custodia. La pretende per via di quello che cantano? In pratica sì, crede che le canzoni e i nostri valori siano troppo conservatori. Vuole sentirle cantare, signor Shore? Con piacere. Mia sorella ci considera razzisti. Strano. Grazie a tutti.